Il Benetton continua a stupire e i tifosi ora stanno facendo l'abitudine a risultati entusiasmanti. Nel settimo turno dello URC, lo United Rugby Championship, infatti, i Leoni vincono in rimonta al Monigo e sconfiggono gli osperi sgallesi per 18-13, dimostrando così anche una grande capacità di rimanere concentrati e lucidi fino alla fine. La meta decisiva la segna Giacomo D'Area, 4 minuti dallo scadere. Nel primo tempo le marcature sono una meta di Bernasconi trasformata da Umanga al sedicesimo e 4 minuti prima un piazzato di Edwards all'intervallo 7-3 per i trebigiani. Nella ripresa due mette gallesi al 41esimo e al 60esimo mettono in difficoltà il Benetton che risponde con il piede di Umanga che segna al 64esimo e al 68esimo e così a una decina di minuti dalla fine il punteggio è in parità su 13-13, poi al 76esimo metà di dare nell'angolo e difesa rocciosa fino alla fine. Prossimo turno il 23 dicembre alle 14, derby italiano a Parma contro le Zebre e match di ritorno il 30 dicembre alle 14.30 al Monigo di Treviso. In classifica ha consolidato il sesto posto in zona playoff con 22 punti ma il secondo posto è solo 4 lunghezze più su. in classifica Grazie a tutti.